Lei cosa pensa? È un paragone che in qualche modo è calzante? La TAV comunque viene costruita con uno scarso rispetto del territorio? No, guardi, io non entro in questa discussione anche perché non ne conoscono le caratteristiche fondanti e tecniche della TAV. Dico semplicemente che Vaillant sancisce una cosa importante, che non si può decidere della vita dei cittadini senza coinvolgere i cittadini. Anche il tema del coinvolgimento della popolazione nelle opere, ripeto, non mi riferisco alla TAV, ma mi riferisco in generale, potrebbe essere mutuato dal sistema francese che è quello di coinvolgimenti molto più profondi nella fase iniziale per poi dar via queste opere. Se da un lato è vero che spesso i comitati sono stativi, dall'altro è vero che in alcuni casi, come in questo, si sono dimostrati purtroppo terribilmente informati e poi hanno anche preannunciato questa tragedia. Il paragono veniva anche per il discorso degli espropri, quindi appunto questa cosa valora forse più il coinvolgimento dei cittadini. La partita degli espropri è una partita che riguarda poi l'opera decisa, cioè una partita che chiede il sacrificio ad alcuni cittadini a favore della comunità, perché poi devo anche ricordare che ci sono opere utili che hanno anche grande battaglia da parte dei comitati locali. Io faccio un esempio, noi abbiamo un'infrastruttura di 99 chilometri che è la Pedemontana Veneta, a 16 caselli interessa 37 comuni ed è una Pedemontana che è voluta dalla totalità della comunità, però poche persone magari non la condividono. Ma qui entriamo nell'ambito ideologico e non quello del fatto che l'opera non serva o non sia condivisa dalla comunità.